Ma queste tombe sono un messaggio di pace. Fermatevi, fratelli e sorelle, fermatevi. Fermatevi, fabbricatori di armi, fermatevi. Pace, implora Francesco, è il grido delle quasi duemila tombe del cimitero militare francese di Roma, scelto per celebrare la messa del 2 novembre, commemorazione dei defunti. È il cimitero dei soldati francesi e delle truppe coloniali caduti per liberare Roma e l'Italia dai nazisti. Le vittime della guerra, che mangia i figli della patria. Erano cristiani e musulmani. Su tante sepolture c'è scritto solo ignoto caduto per la Francia, come quella dove Francesco si era raccolto in preghiera in silenzio appena arrivato al cimitero. Ad altre, invece, aveva reso omaggio deponendo fiori bianchi. Sono sicuro che tutti questi che sono andati in buona volontà, chiamati dalla patria per difenderla, sono col Signore. E noi, invece, lottiamo abbastanza, si chiede Francesco. Perché non ci siano le guerre. Perché non ci siano le economie dei paesi fortificate per l'industria delle armi. La vita è un cammino, non una passeggiata o un labirinto. È l'altra riflessione affidata a tutti. L'importante è farsi trovare in cammino al momento dell'ultimo passo. Qualcuno può dire che mio padre non sia così luttuoso, non sia tragico, ma è la verità. E al rientro in Vaticano, altra sosta di preghiera per Francesco, sulle tombe dei predecessori sepolti nelle grotte sottostanti la Basilica di San Pietro.